Partecipazione e commozione da parte di un pubblico qualificato a Palazzo Cisterna in occasione dell'inaugurazione della mostra A Rischio della Propria Vita, allestita per celebrare il giorno della memoria dedicato alle vittime dell'olocausto. La mostra sarà visitabile al piano nobile della sede della città metropolitana sino a venerdì 12 febbraio. È stata realizzata dal Museo della Storia degli Ebrei Polacchi Polin e dal Ministero degli Affari Esteri della Polonia, in collaborazione con la città metropolitana di Torino, il Consolato Generale di Polonia a Milano, il Consolato Onorario di Polonia a Torino e le comunità torinesi ebraica e polacca. I 18 pannelli in cui si articola la mostra presentano i volti, le storie, le motivazioni dei polacchi che salvarono gli ebrei nel periodo dell'occupazione tedesca e dell'olocausto dal 1939 al 1945, illustrando le circostanze, le motivazioni, il significato morale e le proporzioni del loro aiuto. L'esposizione si basa sull'eccezionale collezione di testimonianze dei polacchi proclamati giusti fra le nazioni dallo Stato di Israele. E mercoledì 3 febbraio alle 10 a Palazzo Cisterna si terrà la proiezione del film Salvati dedicato alle vicende degli ebrei che scamparono alla Shoah intervistati in Israele dove vivono attualmente. Sul rischio dei polacchi durante la seconda guerra mondiale il rischio di salvare gli ebrei perché naturalmente non era la stessa cosa che in altri paesi dell'Europa. In Polonia, durante l'occupazione tedesca, aiutare gli ebrei era punito per la morte, la morte non soltanto di questa persona ma la morte di tutta la famiglia. Per questo abbiamo voluto presentare la mostra che presenta tutti questi giusti che sono riconosciuti dal Yad Vashem di Gerusalemme. Penso che l'iniziativa di questa mostra col convegno che seguirà anche nella giornata del 3 febbraio sia davvero un esempio di un buon utilizzo pubblico della memoria che deve essere a disposizione di tutti i cittadini, in particolar modo delle scuole. Il tentativo del coinvolgimento delle scuole è proprio perché il seme della possibilità di inclusione fra culture diverse e non di esclusione deve partire proprio dai nostri bambini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.